Salve, volevo dire che successivamente non so ancora quando e in che modalità di tempo c'è in quanto tempo, penso che farò una rubrica di vari video ciascuno dedicato ai miei pooper preferiti quindi ciascuno dedicato a ogni pooper preferito mio. I pooper sono quelli che fanno youtube poop, per sapere cosa è una youtube poop vi rimando al mio video appunto che cos'è una youtube poop. Se mi stanno guardando i poopers che nominerò ai quali penso che rinchiaro il video, volevo dire che possono tranquillamente fare una poop su di me se vogliono di uno dei miei video che ho caricato nel canale, nel mio canale. Va bene, arrivederci alla prossima. Grazie.